che cazzo ma perché non danno a top eh perché ancora non siamo arrivati direi che è solo un trooper ma adesso un po' ce li ha non la puoi fattare a scatti dai vai 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 ho usato raccolto pure flopper buonissimo fai un flopper buon anche lato un 4 muore 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 fai un 4 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 vai 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 ciotio spaga spaga filo spaga 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 ti contro due ti contro un ti contro uno ti contro uno non 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 2 2 2 2 3 4 5 4 5 5 6 7 Sopra! 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 Ah, puoi trovare le schede insieme Vienco! 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 Uh! 112! C'è il testo! Vienco Mario! Ho intirato il bianco Dimo c'è materiale Fatto! Perfetto! Hanno restato qua Mi serve aiuto? Fammi pure! Fammi pure! Lo vedo! Lo vedo! Eh, ho visto! Lo ha fatto! Buono vino! Ci fa un movimento che fa! 105! 105! Alza! L'ho mangiato! 10! 10! 5! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.